Diamo il benvenuto invece al nostro ospite di oggi, parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di industria musicale, poi capiremo perché. Buongiorno a Ethan! Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Allora Ethan, abbiamo un minuto prima della pubblicità, quindi ti chiedo, carta d'identità di Ethan, presentiamo Ethan, chi è Ethan? Ci sono troppe cose da dire, ogni volta come carta d'identità è un po' difficile, ma sono un giovane artista. Facciamo anche un dei plan se vuoi. Sì, esatto, sono un giovane artista, sono basato a Milano, ma sono di Firenze, metà brasiliano, quindi mio papà è brasiliano, sì, e niente, sto facendo, sto lavorando il mio ultimo progetto, in realtà che uscirà da gennaio in poi, e il primo singolo lo rilascerò a fine novembre, e niente, direi un mix di cose tra sound un po' sperimentale, comunque pop, però... E questa tua provenienza toscano-caraibica, carioca, scusa, toscano-carioca, si risente nella tua musica? Senti più il toscano o carioca? Allora, nell'accento mentre parlo, secondo me si sente più il toscano che l'influenza brasiliana, però sì, si sente molto in realtà, soprattutto in questo ultimo progetto, diciamo, ho lasciato un po' più spazio anche alla parte delle mie radici, quindi il Brasile, il baio di funk, tutto quello che proviene un po' da là. Ma noi ti abbiamo chiamato qui perché qualche settimana fa hai fatto un post che, velocemente, proprio dopo lo entriamo nel particolare, cos'è che dicevi in poche parole, insomma, questo mondo dell'industria musicale... Sì, vorrei lasciare, cioè era un po' una presa, secondo me, di coscienza, di consapevolezza rispetto a quello che tutti gli artisti, soprattutto emergenti, ma credo anche un po' in generale, nell'industria, mi piacerebbe che ci fosse un po' più libertà di sperimentare, libertà di espressione rispetto a inserirsi. Bene, bene, quello che io chiamo l'effetto X-Factor, entrano che sono una cosa, escono che sono un'altra a volte, e perché succede? Beh, magari ne parliamo dopo, appunto, qui con Ethan, fra pochissimo, è qua. E questo è Regali con niente panico, 8 e 35 minuti, Crystal Radio, 96.2 FM, ve lo ricordo sempre, poi sul Dab Plus e poi anche sull'applicazione per iOS e Android e sul sito internet, quindi non scappate, siamo sempre con voi. Come qui con noi, Ethan, invece, appunto, stiamo parlando di musica emergente, ma anche lì, emergente, però, insomma, tu non è da ieri che iniziare che suoni, cioè è un bel po' mai, no? No, non è da ieri, intendo emergente, in quanto non famoso, non è artistico, diciamo. Eh, infatti, però anche questa cosa che dobbiamo sempre chiamare emergenti, è bravissimo. Infatti, nel senso, ormai tu, altro che sei già emerso e galleggi bene, poi dopo, vabbè, magari. Galleggio, galleggio, galleggio bene, è un'altra cosa, però galleggio. L'industria musicale è una macchina veloce, inevitabile e frenetica che vede tutti i due artisti piegare la testa e adattarsi per vendere, spesso facendoci dubitare della nostra stessa pura espressione artistica, quella senza filtri o limitazioni. Così inizia un post che tu hai messo su Instagram. Che ha generato un sacco di panico. Che ha generato, appunto, niente panico, no, questo l'ha generato, no, ma ha generato anche un po', secondo me, di consapevolezza e di gruppo che seguentano la testa e anche un po' unice. Sì, di riflessione in qualche modo. La discussione è partita, no? L'hai detto anche in maniera pacata, non è che hai detto c'è niente di che, poi hai detto forse non so perché, per come, perché l'hai detto? In realtà non c'è niente che non sia palese, nel senso alla fine non ho raccontato niente di nuovo. Io credo solamente che, in quanto appunto artista emergente e artista ormai che un po', cioè sono qua a Milano da un po' di tempo e comunque mi confronto spesso anche con altri colleghi, artisti emergenti e non, e mi rendo conto che è sempre in qualche modo una costante un po' nella vita artistica di tutte le persone che conosco, il fatto di sentirsi un po' in qualche modo limitati dal fatto di dover vendere, il fatto che ci sono delle scadenze, è vero che è un po' la vita di tutti, di tutti, a prescindere da che tipo di lavoro tu faccia, però mi dispiace a volte vedere che manca un po' di libertà in termini proprio, cioè di fare qualcosa solamente per il gusto di farlo perché ci piace farlo e soprattutto perché tanti artisti hanno degli ascolti, hanno delle reference, hanno dei mondi visivi, mondi estetici, musicali, molto diversi rispetto a quelli che vendono. Io poi parlo in questo, parlo nel mio caso, nel senso io. Portaci in questo mondo, quali sono le reference, questi mondi che hai? Ma in realtà io ascolto tantissima musica diversa perché mio papà è brasiliano, quindi ho sempre ascoltato moltissima musica brasiliana, vabbè adesso sono appassionato di Anita, quindi è una delle mie artiste preferite, lei ha portato il baile funk diciamo fuori dal Brasile, quindi che è un genere appunto che era solamente circoscritto in qualche modo al Brasile, e invece lei è riuscita a portarlo tra l'altro anche con l'ultimo singolo, con The Weeknd, proprio un top global 10, quindi il fatto che lei sia rimasta esattamente fedele a ciò che era quando era ovviamente più piccola, emergente, e sia riuscita a portarlo fuori, secondo me è un grande insegnamento per tante realtà anche qua italiane, e in generale europee, credo che comunque nel resto d'Europa ci sia leggermente forse più libertà di espressione, e credo soprattutto nella scena underground, ma non solo, e mi piacerebbe che in qualche modo questa consapevolezza, questa voglia di espandere un po' i confini, noi ce li abbiamo in Italia in realtà, e abbiamo anche moltissimi artisti validi secondo me, e ci sono un sacco di persone che fanno delle cose molto belle, che a mio avviso dovrebbero avere semplicemente un po' più risonanza. E' quello, no? Poi la risonanza ci richiede di essere invece un po' più mainstream a volte, no? Esatto, esatto. E quindi è un gatto che si muove la coda, come funziona? Io credo che ci sia comunque un modo per essere in qualche modo mainstream, ma pur sempre portando la nostra identità, e che mainstream non significa necessariamente cancellare, o dover... è chiaro che esistono dei filtri, magari dei contenitori, per cercare di vendere radio, poi dipende sempre in che posizione ci vogliamo inserire, cioè che tipo di posizionamento vuoi avere sull'industria. Però in generale esistono tanti artisti, mi viene in mente Rosalia, banalmente, che è un'artista ovviamente mainstream, poi stiamo parlando di grandi nomi, ma tutti gli artisti secondo me che hanno mantenuto un'identità forte, e che hanno un po' preso... diciamo sono rimasti fedeli anche alle loro tradizioni, ma hanno semplicemente reso quello fluibile anche ad altre persone, che non avevano quei tipi di ascolti. È un grande goal secondo me, quello sarebbe un po' il punto dove mi piacerebbe arrivare tra un paio di anni. Non credo di esserci ancora arrivato, e non so neanche se ci arriverò mai, però credo che sia un po' la direzione giusta per stare bene con noi stessi, perché poi questo tipo di lavoro lo facciamo in primis per stare... Prima appunto ci hai ricordato che tu non sei di Milano, arrivi da Firenze, arrivi da un... Come si sente. Ma neanche tanto, dai, devo dire no. No, avevo detto... Quel che basta. Sì, quel che basta. Quel giusto che basta, QB, QB. Com'è però Milano? Visto che siamo good morning in Milano devo farti questa domanda. Com'è Milano? Come ti hai accolto? E cosa ti aspettavi di trovare? Cosa invece hai trovato? Allora, sono arrivato a Milano più o meno quattro anni fa, tre anni e mezzo fa, quindi, diciamo, la mia percezione di Milano è cambiata un po' con il tempo. Nel senso all'inizio ero molto entusiasta di essere qua, di avere... Cioè, di vedere qualcosa di nuovo. Poi Firenze è una realtà completamente diversa, quindi era ovviamente tutto nuovo. E poi con il tempo, secondo me, come ogni grande città, in qualche modo mi sono un po' ambientato, ho iniziato a percepire che non è poi così tanto diverso, alla fine ci sono delle cose che mi riportano molto a casa, quindi oggi la sento abbastanza a casa, nonostante non credo che il mio tempo qua sia infinito, nel senso mi piacerebbe proprio dedicare del tempo anche a me stesso da altre parti, non so, scoprirmi da altre parti nel mondo, se laddove appunto ne... avrò modo di poterlo fare. Però è sicuramente la città più adatta per... E infatti è una cosa che si succede da tanti anni, quella di dire vado a Milano per cercare di... Ancora così, cioè in Italia se vuoi fare musica la devi fare a Milano? No, non credo che in Italia per fare musica debba necessariamente essere qua. Ovviamente qua ci sono, alla fine, music industry, che era quello di cui stavamo parlando, parte da qua, quindi le label, diciamo tutte, sono tutti un po' based qua, e anche il fatto che ci siano tantissimi artisti che vivono qua, il fatto che tanti produttori con cui lavoro poi alla fine stanno qua, diciamo ti facilita e ti aiuta la connessione tra persone, però io ho lavorato e lavoro, diciamo, con tantissime persone anche di fuori, fuori dall'Italia o artisti che non sono qua necessariamente a Milano, quindi non credo che per fare della bella musica tu debba essere a Milano, anzi. Allora l'hai nominato prima, se mi hai visto un po' distratto è perché finalmente l'ho trovato in archivio e l'ho messo, hai parlato di Weekend di Anita, allora ce l'ascoltiamo, no? San Paolo. San Paolo, The Weekend di Anita con Sao Paolo, qui alle 8.42 minuti su Crystal Radio, grazie a Ethan che appunto ci ha suggerito questa suggestione e ascolto, quindi insomma ascoltiamocelo bene, The Weekend con Anita. The Weekend con Anita, Sao Paolo. Un grande inizio questo, per le 8 di mattina è strong. Mi tira giù dal letto, io devo farlo perché so che voi che siete d'ascolto avete bisogno di questa spinta perché insomma se no qua la giornata non è facile iniziare. Non parte, sì. Anzi, me la metto tra i preferiti adesso quando devo dare la carica, penso a Ethan e al suo suggerimento, grazie anzi. Ethan, che appunto sei proprio in studio in questi giorni, sei già pronto per gennaio, sei già scrivendo, no, non ho scritto ma hai già scritto immagino. Sì, scritto, abbiamo scritto da basta studio. In realtà adesso stiamo preparando un paio di dati, il 22, il 23 e il 21 novembre sono qua a Milano, il 23 in apertura a un artista francese, la Killove, il 22 al base, a Linecheck se volete venire, alla Capsula e il 21 per Rockall, è un evento. Quindi niente, abbiamo queste tre date e poi da gennaio in poi quando uscirà il progetto spero di suonare un po' a giro a Milano fuori. Com'è suonare a Milano? No, è figo in realtà, mi piace molto, sì. È bello in generale suonare in Italia, secondo me, cioè ci sono dei posti veramente molto accoglienti. Ma ecco, sta tornando, la mia generazione ad un certo punto si è trovata un po' orfana nei posti dove suonare, non sappiamo più come fare, tutti quelli di noi che avevano un gruppetto così hanno dovuto anche molti abbandonare, nonostante il talento ci fosse, perché era difficile proprio riuscire a, non c'erano ancora i social, quindi era anche difficile farsi conoscere se non dal vivo, e quindi invece dal vivo i luoghi non c'erano. Adesso, nonostante i social ormai siano ovunque, ci sono anche luoghi? Sì, secondo me, soprattutto dopo, cioè il covid ovviamente ha distrutto abbastanza la vibe, in tanti posti purtroppo ci hanno chiuso, però credo che adesso le persone proprio necessitano questa voglia di ritornare live, le persone sono un po' stanche secondo me, io in primis di guardare solamente i social e di fluire nella musica solo in modo virtuale, quindi è bello tornare a stare proprio insieme. Ma questa paura che ormai, soprattutto la genzetta e così, finisse solito uno schermo e mi piace pensare che in realtà si stanno autodecidendo di non rimanere lì dietro, cioè questi schermi ormai hanno un po' stufato. Sì, hanno stufato, io parlo spesso anche ieri in terapia, la mia terapeuta stessa mi ha detto no, ho un po' smesso perché sono stanca dei social, io ho anche persone anche più piccole di me, quindi sentono, quindi credo, diverse fasce di età, sono abbastanza stanche di vivere solamente sugli schermi, è un po' noioso secondo me a un certo punto, è bello sperimentare anche dal vivo, conoscere. Hai detto sperimentare, quanto dobbiamo aspettarci di sperimentazione in questo progetto? No, questo lavoro è abbastanza, diciamo che continuo comunque a pensare che sia un progetto pop, come dicevo prima, io ho avuto anche l'opportunità e la fortuna in realtà, nonostante abbia scritto quel post là, parlavo un po' in generale, però la mia realtà Carosello Records mi ha dato molta libertà e mi supporta molto nel lavoro che sto facendo, ma a prescindere un po' nel mio percorso ho iniziato a lavorare con loro due anni e mezzo fa, più o meno, e diciamo c'è stata un'evoluzione tra quello che facevo prima, di entrare con loro, di firmare insieme a Carosello e durante il processo con loro e anche le cose che usciranno nuove, ho avuto molto modo di confrontarmi, modo di sbagliare, ci siamo dati la mano insieme a Vicente, siamo andati avanti, quindi questo è molto importante, soprattutto oggi. Che ci sia un pezzo di industria che possa invece fare del bene, insomma siamo contenti. Io sono contento di essere rappresentato da qualcuno che riesce a darmi anche la libertà e lo spazio di poterlo fare in un modo sano, che sia in qualche modo che risuoni con me, per cui sì, questo disco a prescindere sarà un po' contaminato da tante cose diverse, non direi che è un disco sperimentale, però c'è un po' di sperimentazione. C'è un po' di sperimentazione, dopo di che mi metto anche nei panni del signor Carosello che vede arrivare i vari ital e dice, oh Dio, questo qui adesso devo ordinarlo un po' perché se no non so più dove fermarlo, perché poi il problema con voi artisti è questo. È vero, ci sono troppi impulsi, troppi stimoli e poi soprattutto io che cambio idee ogni cinque minuti perché ho troppe, sì, no è giusto essere anche... Però è bello l'immagine del prendersi per mano e insieme andare a fare... Essere accompagnati in qualche modo, sì, rappresentati da... Ah ma che a questo punto poi tu accompagni qualcuno e qualcuno accompagna te, quindi a quel punto insomma è molto più interessante, lo scambio. Ricordaci bene le date però, perché siamo quasi in chiusura, ma io vorrei che appunto ci ricordassi bene invece dove possiamo venire a sentirti Sì, e anche che cosa potremmo sentire? Sì, 21 a Rocol e il 22 al base, al Line Check, alla Capsula e il 23 di novembre al Circolo Magnolia all'apertura di Lucky Love, che è un artista francese. Poi il 29 di novembre, quindi una settimana dopo più o meno, esce un singolo... Si può sapere il titolo oppure non è anche quello? Sì, si può dire, dai, Tbilisi. Come? Tbilisi. Ah, Tbilisi, ma... Sì, non l'ho ancora annunciato, quindi sei dei primissimi. Uh, Tbilisi, ma come mai? Un'influenza giorgiana oppure... No, una storia diciamo con il titolo in qualche modo, poi si capirà un po' meglio durante... Sì, ma è stato Tbilisi? No, in realtà... Te lo consiglio, è una bella città. Sì, però diciamo è nella mia... Ok, bene, bene, bene. Speriamo che anche questa, anche la canzone, possa entrare mai in qualche top ten a questo punto, no? Speriamo che non rimanga solo... Quello è un po' più difficile. Non rimanga solo Tbilisi nella tua top ten dei posti dove andare, ma che Tbilisi la canzone possa entrare mai nella top ten di qualcuno, di qualcuno, di qualcosa, di... Andrebbe bene comunque, in realtà... Qualche playlist, no? Sì, no, quello sicuramente. Sono contento un po' del fatto che sia questo il pezzo che annuncerà il progetto nuovo e da gennaio in poi uscirà tutta l'IP, eccetera. Quanti pezzi hai pronti? Cioè, quanti pezzi sarà il progetto con l'IP? Abbiamo 8-9 pezzi, in realtà, poi saranno divisi in due parti, quindi probabilmente da gennaio non uscirà una parte e dobbiamo ancora capire esattamente, probabilmente sarà aprile la seconda parte di lancio. E c'è anche tanta programmazione da quanto capito, nel senso che appunto non è... Noi qui pensiamo che tu pigli una chietta in rete... No, è il lavoro, invece poi... In realtà il lavoro più difficile è proprio programmare prima e organizzare tutto e non perdere la sanità mentale nel frattempo. Che non è da poco... Quando sei emergente, immaginati quando sei big, infatti, ma allora ti chiedo, mi hai dato l'assist, ti chiedo cosa ne pensi di questi big che invece a un certo punto proprio dicono... Niente, bisogna rallentare un attimo. Vedi Angelina Mango adesso, vedi San Giovanni è stato uno dei primi a aprire giustamente quel tema. Insomma, sono temi davvero complicati. Io credo che sia importante avere questi tipi di rappresentazioni. Infatti sono rimasto molto colpito dal fatto che San Giovanni appunto si sia esposto in modo chiaro e nitido senza dover tanto girarci intorno, diciamo, nonostante appunto sia uno degli artisti più ascoltati in Italia. Quindi sono contento. Credo ci sia bisogno di persone in alto che in qualche modo portino un po' la bandiera alta della... parlare di temi riguardo alla salute mentale, riguardo a quanto sia difficile essere artisti nel 2025 in Italia e che non è tutto rosa e fiori, non ci sono solamente top ten e classifiche, ma c'è anche tanto dolore in realtà dietro. Quindi non è facile. Anche perché poi appunto è un lavoro dove ovviamente le emozioni devono poter uscire, se no non lo scrivo io le canzoni, che tanto vabbè è uguale. Sì, diciamo che non c'è una preparazione proprio, cioè nessuno ti insegna come gestire l'emotività in qualche modo, proprio in generale. Siamo programmati affinché questa cosa non venga... Sì, non siamo abituati, non siamo allenati e programmati nel... Nel gestire le emozioni. Gestire le emozioni e farle uscire senza che questo diventi un dramma. Esatto, senza un giudizio. Senza un giudizio. In qualche modo, per cui è molto difficile dover filtrare sempre quello che senti, ma renderlo allo stesso tempo anche commerciale e vendibile per le altre persone. Dovrebbe esserci una preparazione. Ethan, siamo arrivati alla fine. Allora, dacci le coordinate invece per poterti seguire. Allora, sui social, Ethan, Lara, E-T-H-A-N, Lara, con due A in fondo, però non ce ne dovrebbero essere troppi a Milano, quindi dovrò uscire subito. E su Spotify, Apple Music, tutte le piattaforme, Ethan. Tanti pezzi che trovate, ci sono tanti che featuring con altre persone. Sì, mi piace tantissimo. Ormai fate cumpa, come si dice da queste parti. Molto, molto interessante. Allora, noi ci risentiamo e ci dobbiamo rivedere allora a questo punto. Quando uscirà tutto. Quando esce Tbilisi, almeno quando esce Tbilisi, c'è dei mandacra, dobbiamo sentire. Cioè, questo è un po' come sicuro. Assolutamente. E poi, vabbè, a gennaio ci rivediamo con il progetto nuovo. Farò molto piacere. Dai, grazie. Grazie mille a Ethan, seguitelo sui social. Noi adesso non possiamo che dire una sola cosa. Sigla!